Sono molto contento, è anche emozionato, infatti non vedo l'ora di cominciare, mi sembra di essere il primo giorno di scuola, però è una grande opportunità, ringrazio il Presidente per la sua fiducia nei miei confronti, farò di tutto per cercare di ripagarlo di questa fiducia che è molto importante, è una responsabilità che sento ma che mi affascina e non vedo l'ora di cominciare lì. Dicevi prima in conferenza stampa ho firmato il contratto senza neanche vedere le cifre da durata. Sì, perché quando scegli non è importante il discorso economico, ho scelto le persone, ho scelto la società, ho scelto la mia città e so che devo dimostrare tanto per meritarmi questa fiducia. In questo momento per Luca Leone quali sono le priorità? La vera grande priorità è stata cercare di mantenere l'ossatura dell'anno scorso, secondo me quello è stato il primo grande acquisto insieme alla conferma dell'allenatore, perché chi ha portato, meritato e combattuto e conquistato la Serie A era giusto che si giocasse la possibilità di restare a Pescara, di fare la Serie A e secondo me il vero grande colpo sono loro, quindi è da loro che bisogna ripartire e poi dobbiamo cercare di andare a colmare quelle che possono essere delle mancanze in questo momento per migliorare questa squadra che ha già un'ossatura abbastanza forte. Possiamo dire che un attaccante, un difensore sono gli obiettivi prossimi del Pescara? Sì, sicuramente il reparto dell'attacco va completato e in difesa forse un tassello importante ci serve. C'è questo problema del deferimento, Luca, se così lo vogliamo definire, ci potrebbe essere il rischio di una mini squalifica? Giuro che non ho ammazzato nessuno, adesso vedremo cosa succederà, sinceramente dico la verità non mi sono nemmeno preoccupato perché sentirò l'avvocato e vedremo cosa succederà.